Cambiamo argomento ma rimaniamo alla cronaca. Subito un potenziamento delle forze dell'ordine sul territorio con la possibilità di istituire un commissariato per l'Alto Tirreno Cosentino. Da Cosenza arriva la risposta del prefetto dopo i gravi incendi a Diamante Scalea per i sindaci della zona. È un segnale incoraggiante. Il servizio di Alessandro Banfo. Gli atti intimidatori nell'Alto Tirreno Cosentino sono stati gravissimi e le istituzioni reagiscono facendo quadrato per garantire la sicurezza nel territorio in un momento particolare. Dopo gli incendi a Diamante Scalea la prefetta di Cosenza Vittoria Ceramella convoca il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza con i due sindaci. La risposta c'è. Da subito ecco un potenziamento delle forze dell'ordine nella zona con la possibilità di istituire a breve un commissariato per l'Alto Tirreno Cosentino. E ancora la prefetta conferma il massimo impegno anche sul fronte investigativo. Il primo cittadino di Scalea per rotta e il vice sindaco di Diamante Pascale accolgono con soddisfazione le misure, sottolineando come in questa fase servono un segnale di fiducia per tutti i cittadini. L'ultimo periodo è stato davvero preoccupante. Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio tre autobus della ditta Prete sono stati dati in fiamme a Diamante. Un atto doloso ancora senza un colpevole dopo che solo a ottobre un altro mezzo della stessa azienda era stato bruciato a Scalea. E proprio qui un incendio ha distrutto lo storico stabilimento balneare da Pietro. Un secondo gesto pesante con i sindaci della zona costretti a inviare subito una riunione di emergenza a Diamante. Da qui è partito il progetto di una grande iniziativa con il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, scuole e associazioni del territorio. Un'idea per accendere un faro dopo questa escalation criminale che autorità e forze dell'ordine monitorano con grande attenzione.